Ma quanti ce ne sono? Ma scusami, ma stiamo scherzando! Lì e qui... LADRO! STAI FERMO LADRO! No, no, c'ho la pistola ragazzi! Mi hanno detto che Steph si trova in prigione e quindi voglio andare a trovarlo Guarda, vedo già il nome per capire come mai è in prigione Io ho già i miei dubbi sul fatto che si è in prigione Oh, ciao Steph! Ciao! Ciao Marti! Stiamo facendo visita pure io al criminale della vita in città Come mai sei in prigione, Steph? Come mai, Steph? C'entra per caso la mia mela d'oro? No, guarda, praticamente è arrivato un poliziotto poco bravo e abbastanza incompetente che pensa che io sia colpevole e mi ha arrestato Steph, l'hanno pensato tutti, tutto il mondo Cioè, quindi mi sa che non è solo il poliziotto ad aver pensato che tu abbia compiuto delle malefate Io ammetto che non ho rubato la mela d'oro ma l'ho fatta rubare a qualcuno e io mi sono beccato una parte dei soldi Ok, quindi è un crimine a metà bisogna ammettere questo Però sei complice, anche i complici vengono arrestati Sì, esatto, sono complice Quindi stai confermando che sei stato tu comunque a rubarmi la mia mela d'oro che valeva un sacco di soldi No, era mezza confezione È stato un mio amico che poi mi ha dato una parte dei soldi Eh sì, sempre l'amico Perché io gli ho dato l'informazione, gli ho detto dove stava Ah, ok Era, sono un complice Comunque no, lo voglio ammettere Comunque per uscire alla prigione dovrò compiere qualcosa di un po' brutto perché altrimenti non posso dire Guardalo, guardalo, ti sembra una persona pentita Sarà la mia ultima bruttazione Sì, sì, certo E voglio anche dire una cosa per dimostrarlo Gabby con Feri hanno scoperto di un libro dove ce ne hanno programmate altre malefatte Due Due Erano organizzate da me da far fare al mio amico ladro E io non sono sicuro che il ladro non le farà E siccome, Marci, la prossima malefatta era rubare un gioiello della tua gioielleria Io ti consiglio di stare attento Se poi verrà rubato io non avrò nulla a che fare Chiudi tutto il cassaforte, Marci Ma sempre a me le cose Ti sto avvisando per essere gentile Sei tu quello ricco Beh, sei più ricco però, Marci Il gioiello Ma scusate, voi quanti soldi avete? No, adesso ne ho tanti però Ecco allora C'è ancora, Steph? Non te li hanno confiscati? No, ancora no Ma che si dimentica Comunque, io ti ho avvisato Va bene Cerca di proteggere la gioielleria Vado a mettermi a posto, va? Esatto Cerca di proteggere tutto E spero che riuscirai a salvare i tuoi gioielli Ciao, Feri Steph non ti saluto a te Ciao, Marci Ciao Secondo me, Steph è stato abbastanza diretto in quello che ci ha detto Praticamente ci ha detto che qualcuno oggi andrà a rapinare la mia gioielleria Quindi a noi non sta altro che prendere i gioielli, metterli subito da parte, metterli via, nasconderli E voglio fare per questo, ragazzi, un bunker sotto la gioielleria per mettere tutto da parte Spero che non ci sia nessuno che ci stia spiando Perché nello scorso video, molti di voi mi hanno fatto notare Che mentre parlavo con Silvestre gli davo il mitril Che peraltro abbiamo sbloccato e possiamo andare a prendere Dato che si potranno fare della sorta di gioiellini Qualcuno ci stava spiando E quel qualcuno era il ladro Sono andato a rivedermi il video, io non me ne ero totalmente accorto Quindi nel caso, ragazzi, andate a vedere anche voi Perché è veramente pazzesca come cosa Comunque, perché sono da questa parte? Perché sto andando dall'IKEA Per il semplice fatto che ho visto che vendono la Vault Door La Vault Door che cos'è? È la porta per il bunker Ci serve assolutamente, ragazzi, perché rinforziamo l'accesso e l'ingresso a questo bunker Allora, vediamo dove che l'hanno messa Se non è restata messa qua da qualche parte No, qua non c'è Qui non c'è Eccola qua, vedete? Commesso IKEA Selling questa cosa qua Costa mille, costa un sacco Ma è un investimento che, ragazzi, voglio assolutamente fare Perché potrebbe essere di fondamentale importanza Quindi Stuck e l'abbiamo preso Vault Door Black Adesso ve la faccio vedere Guardate, se io faccio così, si entra E teoricamente la linea di massima con i config che abbiamo selezionato La posso aprire solo io Quindi, in teoria, il ladro non dovrebbe poterla aprire Quindi È una buona difesa È veramente una buona difesa Allora, dove voglio fare il bunker? Il bunker io lo voglio fare esattamente qua sotto, ragazzi Quindi, anzi, qua che non si vede neanche Oppure addirittura, ragazzi, qua dentro Perché qua dietro nessuno penserebbe di andare Quindi io direi di farlo esattamente qua Ho rubato una pala a Marco Che lo vedrete nel suo video Quindi andiamo qua sotto Il vault è alto 3 Quindi abbiamo 1, 2, 3 Possiamo anche scendere un pochino Direi che qui va benissimo Poi lo voglio fare verso il dietro Così poi posso collegarlo direttamente a casa mia Ho finito la pala Devo finire a mano, mannaggia Anche se potrei farlo esattamente qua Ma voglio farlo un pochino più lontano E più indietro Quindi sì, devo per forza fare quello che voglio fare Io direi che allora Qui abbiamo il nostro tunnel Che ci porta in questo cavo Che sarà appunto qua dentro E qua dentro dovremo rinforzarlo tutto Prima o poi Quindi adesso devo spaccare di nuovo tutto Perché non so come mai Ma sotto questo punto qua di città È tutta terra E non c'è neanche un pochino di stone Quindi devo andare a farmi la pala, ragazzi Quanto lo faccio grande Sapete che non lo so Voglio farlo comunque abbastanza piccolo Perché deve essere un cavo Dove alla fine metto delle cose preziose All'interno Quindi io direi che Possiamo farlo di questa grandezza qua Che tanto è incastonato per bene E poi nelle pareti Nel pavimento E nel soffitto Ci mettiamo un blocco Che può essere un blocco rinforzato Che può essere anche semplicemente Il basalto tutto nero Che può essere totalmente interessante Da fare per creare una stanza Totalmente nera Peraltro Ok Vediamo un po' come sta così Direi che ci siamo Peraltro il basalto Se vi ricordate Ne avevamo preso un botto L'ultima volta Quindi A questo punto Io direi che andiamo a prenderlo Tanto l'ho messo In dei locker gialli I locker gialli Vi ricordate Sono quegli armadietti Bellissimi Che abbiamo preso La scorsa Che vi sono piaciuto un sacco E peraltro Ne ho preso un altro Ragazzi Allora guardate un po' Qui abbiamo un botto di basalto Esatto 25 26 Più 64 25 Perché 1 L'abbiamo rotto da qua Allora Io so adesso Che comunque dovrò spaccare Qua sotto Per andare nel cavo Esattamente qui sotto Quindi nessuno potrà mai sapere Che si va esattamente qua sotto È una cosa tecnicamente impossibile Quindi Allora facciamo Che Togliamo anche Un attimino il pavimento Qui Così siamo a posto E forse è un pochino Troppo grande No Potevo farlo anche un pochino Più piccolo Ho sbaglio No vabbè Un pochino più lunga ci sta Dai facciamo così Bella di basalto Che è comunque un blocco Difficile da distruggere Potevamo fare di ossidiana Però di ossidiana ragazzi Comunque ci mettiamo parecchio A farlo Ci sto pensando Beh è totalmente inutile Farlo di ossidiana Quindi direi che possiamo Tenerci semplicemente Il basalto Che comunque è bello È un buon blocco E va benissimo Quindi facciamo così Facciamo così Ed eccoci qua ragazzi Poi qua al centro Ci metteremo Una chest Con all'interno Tutti i gioielli preziosi Anche perché ragazzi In questo episodio Innanzitutto volevo Craftare l'ultimo gioiello Perché me l'avete detto Di rimettere il gioiello Che era stato comprato Ah no non è stato comprato l'altro C'è solo l'S1 Quindi devo ricraftare Il gioiello in diamante Quello base Va benissimo Allora Prendiamo questo Prendiamo questo Prendiamo questo Prendiamo questo Li prendiamo tutti E li dobbiamo mettere Assolutamente nel bunker Ragazzi Per forza Non abbiamo Ultima scelta Perché se no Qualcuno qua Ci può rubare Subito qualcosa Quindi Io direi che Adesso Fatemi prendere Un attimino Il diamante Che mi era avanzato Che era questo qua Dovrei avere anche Delle stringhe In qualche chest Se non erro Le stringhe Dove le ho messe No perché mi fa sta cosa Avevo cliccato qua Mannaggia Amici Mentre stavo cercando Le stringhe Che peraltro Non so neanche minimamente Dove sono Guardate cosa ho trovato Ho trovato 39 pezzi Da 100 Che sono 3900 Villageuro Voi ne sapete qualcosa Di questi soldi Qua dentro Perché Non capisco il motivo Di questi soldi All'interno Di un mio locker Di una mia Di un mio armadietto Cioè se sapete qualcosa Dittemelo per favore Perché è alquanto strana Come cosa Però fa niente Allora Stringhe ragazzi Noi ne abbiamo più Mi sembrava che me ne fossero avanzate Un pochino Ma a quanto pare Non ne abbiamo più Allora l'unica cosa da fare È fare una chest Che la chest ce la possiamo fare Con questi due pezzettini qui E andare a mettere tutto a posto Peraltro Non so se lo sapevate Ma Ho messo da parte Un pochino di roba a cuocere Vedete 59 15 64 Io intanto Facciamo così Prendiamo tutto E andiamo direttamente A mettere tutto Nel nostro shop Così almeno possiamo Mettere un pochino di roba In vendita Facciamo così Facciamo così 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 60 E ok Abbiamo ancora un botto di stack Belli pieni Per vendere le cose Qua c'è ancora Un bel po' di oro Mi pare che io mettessi 7 a 20 Se non erro Sì 7 a 20 Siamo a posto Quindi A questo punto Mangiamo Magari Mangiamo questa carne Così la finiamo E ci togliamo Uno slot Dall'inventario Torniamo giù Come avevamo detto Esattamente Da questa parte qua Ok E mettiamo la chest Con All'interno Tutte le cose Preziose Quindi mettiamola Qui Con 1 2 3 4 5 6 Questo qui ragazzi È super 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 prezioso Guardate che bello Forse questo qui è il pendente Più bello che esista Guardate un po' Mi piace molto 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 di più dell'altro Guardate è veramente bellissimo Blu scuro Stupendo Mi fa veramente impazzire Però A questo punto Noi ci teniamo Il collo Quello bellissimo Che ci dà anche Rigenerazione E qua mettiamo questo Magari possiamo fare una cosa carina Tipo contornare Questo qui In questa maniera Oppure fare Tipo così Ok Guardate che bello Così Guardate che bello Mi piace un sacco Olè Adesso Chiudiamo Tanto Questa cosa qui Non può aprirla nessuno Se non io Quindi a posto E poi nessuno tanto Può sapere come si arriva qua Allora Saliamo Con la terra E poi mettiamo Ho sbagliato Saliamo con la terra Saliamo con il basalto Saliamo con la terra Ok E mettiamo il basalto qua Perfetto Tanto qui non sa Nessuno che devo scendere Da questa parte Si vede ancora che è qua Si vedono ancora le teche Tutto Ma adesso mettiamo Subito Un cartello Con scritto Negozio chiuso Allora Anzi no Non lo mettiamo qua Ho sbagliato Non voglio metterlo qua Lo mettiamo Proprio qua in centro Con scritto Negozio Chiuso Per tentata rapina Per tentata Rapina Punto esclamativo Ok lo lasciamo qui ragazzi Sappiamo che ci deve essere una rapina Quindi mi sembra corretto Tenere tutto al sicuro E tutto chiuso Ma ho appena visto che ci è arrivata una lettera A me sembrava che prima fosse vuoto Quindi andiamo ad aprire questa lettera E voglio sapere Che cosa contiene Cosa? 500 euro? Perché questi 500 euro? Attenzione ragazzi Mettiamoli subito da parte Anche perché oggi abbiamo speso 1000 euro Solo per prendere quel volt lì Che è veramente una cifra Astronomica Andiamo a vedere che cosa vuole Oh c'è un bucchain qui ovviamente Ciao Marci Ti volevo ringraziare per aver trovato il minerale che cercavo Ma ho bisogno di un nuovo favore So che nelle nostre caverne si può trovare un minerale misterioso Chiamato Diamante Nero So anche che in città qualcuno lo vende Ti piacerebbe aiutarmi a trovarlo? Avrai una bella ricompensa Silvestro Allora ragazzi Questa situazione si fa un pochino più aspra e strana Cosa vuol dire che c'è una persona nella città che lo vende? Chi è? Che esattamente non ho ancora visto Non conosco nessuno Se voi conoscete qualcuno Sapete che cos'è questa cosa? Il perché? O magari dai video degli altri avete visto magari qualcuno che vendesse questo Diamante Nero Ditemelo Perché sinceramente Io non ricordo di aver visto nessuno che vendesse questo Diamante Nero Provo ad andare a controllo da Angelo Se qualcuno lo vende Ma adesso è notte Qua tutti stanno tornando a casa dal lavoro Ignazio Corrado Niente Io gli shop che ricordo Sono questi qua O che c'è qualche persona loss che sta lavorando in questa città Ma sinceramente mi sembra un pochino strano Però fa niente ragazzi Magari lo scopriremo nei prossimi episodi Però voi se sapete qualcosa ricordatevi di dirmelo Assolutamente Comunque qua mi sa che ragazzi dobbiamo per forza abbassare i prezzi Sia al Diamante che allo Smeraldo Perché si sono abbassati completamente i prezzi A tutti i villageri Tutti vendono tutto a pochissimo Non capisco perché Tutti comprano tutto a pochissimo Non capisco cosa stia succedendo E un Diamante a 300 non me lo comprerà assolutamente nessuno Quasi quasi Sono quasi costratto a vendere almeno la metà dei miei diamanti E la metà dei miei smeraldi Adesso smeraldi ne ho pochi Però mi sa che mi toccherà vendere un pochino di cose Per farmi un pochino di soldi ragazzi Perché Perché cavolo Tutti vendono tutto a pochissimi soldi E questa cosa non va bene Adesso però è arrivato il momento Di andare in miniera Perché dobbiamo andare a scovare questo diamante nero Se lo troviamo E dobbiamo andare a prendere un pochino di mitril Perché a parte che nello scorso episodio Quando vi ho detto Ragazzi volete che vado in miniera Tutti a dirmi Marti assolutamente Vai in miniera Perché è fantastico Quando vai in miniera Contentissimo di questa cosa ragazzi Voglio assolutamente andare a cercare appunto Il diamante nero Ma ho scoperto che il mitril Se cotto Diventa un lingotto E questo lingotto È molto ricercato Da coloro che amano i gioielli preziosi Perché essenzialmente È come se fosse un Un pezzo di argento vero Si chiama argento vero in italiano Il mitril Oppure argento di moria E probabilmente È utilizzato come uno di quei blocchi Uno di quei lingotti Per essere più appariscenti Non lo so Noi andiamo e prendiamolo Io direi che partiamo Prendendo un pochino di carbone Perché guardando Quello che ho fatto prima Guardando appunto Le mie fornaci Il carbone ragazzi Si sta finendo Ce n'è rimasto solo uno stack Quindi mi tocca prendere Un po' di carbone Così siamo a posto Peraltro Il consiglio che mi avete dato Settimana scorsa È stato quello di portarmi Il piccone con silk touch In miniera Per appunto minare Tutti i blocchi con silk touch E almeno ad avere Meno slot nell'inventario Da utilizzare Per tipo carbone Lapislato Redstone È una buona idea Effettivamente Però mi sono dimenticato Di prendere il piccone con silk touch Che è ancora nella lavastoviglie Sto prendendo Un pochino di carbone Perché ho notato Che siamo un po' secco Adesso vedete Prendendo già solo due Insenature Ho quasi fatto due stack interi Peraltro Mi sono tenuto i diamanti Nell'inventario Sono un pochino stupidino Questo c'è da dire ragazzi È veramente da dire Ferro siamo messi benissimo Ma non è mai abbastanza Anche perché Vorrei iniziare A fare qualche cosa Col ferro Se c'è qualcuno Che magari compra Delle armature Non so se io potrò mai farle Se qualcuno Mi dà la licenza Di farle Sarebbe interessante Avere la licenza Per fare le armature Comunque Allora Questo qua Lo prendiamo Arriviamo direi a due stack Di carbone Vediamo quanto siamo 49 Va più che bene Sono le 7 del mattino Già Ci abbiamo messo un po' Per arrivare in miniera Perché questa qui è molto lontana Sono andato Oltre L'extreme Ilse solite Sono andato in un'altra Extreme Ilse Perché almeno abbiamo sempre Oh mitril Eccolo qua Abbiamo la possibilità Dicevo di prendere Lo smeraldo Visto che di smeraldo Comunque non ne abbiamo più tantissimo Ma quanto Diamine di mitril C'è in questo posto Ma è infinito Quanto siamo Siamo già A 11 pezzi 12 11 pezzi Non male Non male Per niente Qua si scende Qua si scende No non si scende Scherzavo Pensavo si scendesse Ma non si scende Forse ho trovato Una caverna pacco Anche perché è stata La prima che ho trovato E mi sono subito Buttato dentro Vabbè Ci sta ragazzi Che possiamo sempre Avere le cose migliori Oh ma che cavolo Questo non l'avevo visto Scusate Non l'avevo completamente visto Questo smeraldo Smeraldo Quanto ne abbiamo Due pezzettini Mica male Due pezzettini Mica male Due pezzettini Ferro L'abbiamo preso Altro ferro Da questa parte Però mi sembra Che questa caverna Oddio Da questa parte Si può scendere Forse dovevo andare Da questa parte Prima Hai capito Che io non sono andato Di qua Ma si andava Di qua Prima Vuoi vedere Che davvero Si scendeva Da questa parte Vediamo No ok Mi sto sbagliando Di gran lunga Mi sono perso Mi sembrava Che questa caverna Avesse una fine Invece mi sa Che non ce l'ha Mannaggia Ragazzi Oh caverna Ragazzi Oddio Allora Stavo cercando Di fare un po' Di branch mining Perché in genere Ci sono sempre Caverne attaccate Vedete Siamo nella caverna Di prima Quella di prima Insomma E ho detto Sentivo dei rumori Di acqua Di qualcosa Sono venuto Da questa parte E stuc Cavernina Ragazzi Finalmente Oserei dire Vediamo se Ah io non ho Un secchio Vero Forse Non avere il secchio Questa volta Oh qua c'è però Del lapislazzolo Forse non avere il secchio Non è stata L'opzione migliore Quindi va bene così Adesso direi che andiamo Oltre da questa parte Prendiamo il nostro oro Perché tanto oro Ne abbiamo sempre bisogno E qua si scende Si scende No forse Non si scende Da questa parte Ho trovato una caverna A pacco Mi stai dicendo Ho trovato una caverna A pacco Ragazzi Qua c'è della lava Ma ho trovato Una caverna a pacco Perfetto Che bello Sono contentissimo Direi di proseguire Da questa parte Prendendo tutto il ferro Che abbiamo Ma non so se avete notato Ma mitril Ne abbiamo trovato poco Rispetto all'ultima volta L'ultima volta Ne abbiamo trovato Veramente un sacco Subito Invece questa volta Mi sa che siamo Un pochino a secco Perché ne abbiamo Solo 11 pezzi Ma dopo Li andiamo a cuocere E vediamo cosa Ok Allora Oh qua c'è dello smeraldo Ottimo Lo smeraldo Lo prendo volentieri Non disprezzerei Neanche avere Un altro po' di oro Perché comunque L'oro ragazzi Se voi ci pensate A noi ci serve Veramente un sacco Perché se Steph Continua il suo business Delle mele d'oro E quelle cose lì A noi serve veramente Un sacco Come cosa Qua si scende Vabbè ormai Ci portano di qua A la caverna Andiamo di qua Voglio prendere Quella pislazzola Ferro Lo lasciamo un po' stare Qua non c'è niente Vero Non c'è assolutamente niente Qua c'è un pochino Perché ho preso danno Non dovrei aver preso danno Qua mannaggia C'è il diamante là Ragazzi Diamante Ottimo Ottimo questo diamantino Qua c'è altro diamante No non c'è diamante Prendiamo quel diamante là in fondo Così almeno Ci facciamo un pochino La scorpacciata E poi possiamo tornare a casa E andare a cuocere questo mitril Che portiamo direttamente A mettere in vendita Perché ragazzi Il mitril Se è un buon gioiello Tra virgolette Potrebbe essere interessante Allora lì c'è Sbieraldo e diamante Non male come Come cosa Sinceramente Allora prendiamolo Uno Due Tre Quattro E cinque Mi pare che fossimo a 34 Ne abbiamo trovati undici ragazzi Non male per niente Sette smeraldi E io non li buco Altri diamanti Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Eravamo a 45 No ragazzi Ne abbiamo trovati veramente un sacco Ma stiamo a scherzare Altri diamanti Ma quanti ce ne sono Ma scusami Ma stiamo scherzando Lì e qui Uno Due Tre Quattro No vabbè ragazzi Sta cosa è totalmente insane Come cosa Non ci è mai successo una cosa del genere Ma di cosa stiamo parlando ragazzi Qui potrebbero essercene altri Occhio Qui qua potrebbero essercene tranquillamente altri Ne abbiamo trovati un sacco Ma stiamo scherzando Ne ho trovati 33 in men che non si dica E non trovo Mithril Cioè trovo diamante E non trovo il Mithril Questa cosa è veramente È veramente insane ragazzi Senza 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 Senso Senza Senso Completamente Ma avete visto quanti diamanti c'erano Ma porca miseria Ma sono tantissimi Però adesso torniamo a casa Che è meglio Allora Siamo tornati a casa Quindi prendiamo il nostro Mithril Lo prendiamo L'abbiamo messo direttamente nella fornace Mettiamo anche il ferro L'oro Tutte queste cose qua E siamo veramente messi bene Vediamo un po' come esce Il blocco di Mithril E che non l'ho neanche visto Perché già c'è Che bello Ragazzi È bellissimo Parliamone È veramente stupendo Questo gioiello È un gioiellino Veramente bellissimo E ci sta Quindi Quindi Allora Direi che la nostra gioielleria È a posto Siamo tutti ok Lì abbiamo tolto tutto Invece Adesso Prendiamo il Mithril Voglio vedere un pochino com'è E quasi quasi Vi dirò Voglio andare subito A metterlo nel cavo Che dite ragazzi Prendiamo questi 11 pezzi Li mettiamo nel cavo Così almeno Stucca Abbiamo tutto a posto Intanto che finisce di cuocere Prendo lo smeraldo Che ho dentro qua Mi pare Che ne ho altri 7 Qua dentro La pizzo Lo lasciamo perdere Qua ci sono i soldi Che voglio prendere Infatti Ditemi ragazzi Chi cavolo mi ha messo sti soldi Io non posso non prendere sti soldi Scusate C'erano 39 pezzi da 100 Parliamone un attimino Per favore E vado a mettere subito Questi diamanti Qua dentro Qua ne abbiamo 40 Abbiamo veramente Tanto diamante ragazzi Abbiamo veramente Tanto diamante Quindi mi sa che Per i prossimi episodi Niente caverna Per un po' Anche perché Black diamond A me non sembra Di averlo trovato Sinceramente Mi sembra di averlo trovato A me sembra di no Quindi adesso Finiamo che Aspettiamo che finisca Il mitril Allora Intanto che finisce Anche il mitril Di cuocere Voglio prendere Due secondi Tutti i diamanti Che ho Per farmi Il diamante Cioè il pendente Quello lì Un pochino più caro Che non avevo ancora fatto L'ultima volta Cioè Me l'aveva L'aveva comprato Non mi ricordo Come si chiamava lì Come cavolo si chiama Gustavo Una roba del genere Però mi servono le stringo Visto che Snap e fiere L'avevano rimessa in vendita Quindi vado a prenderle Da loro E ci facciamo questo pendente Che mettiamo Via Finalmente Ok Prese 17 A 100 Ragazzi È sempre super 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 caro Steph Però vabbè Fa niente Allora a questo punto Stringhettina No aspetta Com'è che era al contrario Non mi ricordo più Oh mio dio Com'è che si faceva Così tipo No non mi ricordo Ok così Eccolo qua VS1 Diamond Chain Abbiamo quella veramente bella Peraltro questa qua È quella con il dollarone Quindi secondo me È anche più bella Di quella dell'altra volta Quella che vi ho fatto vedere Inizio video Quindi Rimettiamoci la nostra Che tanto abbiamo rigenerazione Portiamola nel bunker Andiamo a dormire Aspettiamo che finisca Di cuocere il mitri Intanto avrà finito ormai Mettiamo questo qui nel bunker Lo mettiamo al centro Così vedete Al centro ci sono i tre belli E poi lo smeraldo fuori Quindi va più che bene Allora chiudiamo Ok Torniamo su E siamo a posto Ok finalmente giorno Mettiamo nei nostri Locker Tutte quelle cose Che tanto poi Sappiamo che dobbiamo Mettere via Questi locker qui Sono fatti a posto Questi armadiette Allora Abbiamo il nostro mitril Ne abbiamo undici Che bello Finalmente Undici pezzi Quasi quasi All'interno della gioielleria Ci vorrei mettere Anche un po' Tipo di smeraldi E di diamanti Così li mettiamo da parte Perché almeno Sono messi bene al sicuro Ne mettiamo 16 di diamante E direi di prendere Almeno 8 8 smeraldi Direi che ci siamo Siamo a posto Andiamo Mettiamo queste cose qui Che almeno È tutto a posto Ok Allora scendiamo di qua Perché ha aperto? Ladro! Stai fermo ladro! No no C'è la pistola ragazzi! Alla pistola! Stai No non faccio niente Stai fermo No non sto fermo! Cos'è che ha preso? No ragazzi ma come ha fatto? Sapeva Sapeva tutto! Ecco perché ci spiava L'altra volta da Silvestro! No ragazzi Mi aveva pure messo in guardia Steph! Non ci credo ragazzi Non è servito a niente Questo bunker! Cos'è che mi ha preso? Mi ha preso La gemstone di smeraldo Di oro E quella che abbiamo appena Craftato di diamante! Non ci posso credere ragazzi Non ci posso Devo andare a prenderlo Ma lui aveva una pistola Ma dov'è che l'ha trovata la pistola? Non mi sembrava ci fosse un negozio d'armi in zona No ragazzi È impossibile questa cosa È veramente impossibile Tutta me stanno capitando Io devo andare a dirla a Steph sta cosa Io non ci posso credere ragazzi Dov'è il ladro? Boh Mi sembra che non c'è neanche nel server più Non ci posso credere ragazzi Se abbiamo perso Di nuovo tutto Sempre a me capita questa cosa Non è possibile Il è è